Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo super speciale video. Se avete visto lo scorso video in cui vi presentavo il nuovo Liam di mia creazione, quindi un fratellino gemello per certi versi al nostro Liam biondo, quindi la nostra mascotte di questo canale, allora saprete il contenuto di questo video. Quindi se non avete ancora visto quel video specifico ve lo lascio qua sopra, lo trovate comunque nel canale perché il video precedente a questo mi raccomando recuperatelo. Quindi il grande annuncio che mi avete chiesto davvero tante volte negli anni è che Liam è ufficialmente in vendita. Quindi se siete interessati ad adottare il piccolino che è rimasto nella mia collezione personale fino ad adesso, mi raccomando scrivetemi una mail oppure un messaggio su Instagram. Trovate tutti i miei contatti nel primissimo commento fissato in alto qua sotto nella sezione commenti. Allora, adesso vi spiego i motivi per cui ho deciso di mettere in vendita e in adozione il piccolo Liam, però prima di tutto fatemi sapere nei commenti se siete sorpresi di questa novità, se siete interessati magari ad adottare il piccolo Liam, penso che è sempre stato la mascotte di questo canale, e diciamo credo il vostro bimbo preferito perché è sempre stata la costante che non è mai stato messo in dubbio la sua appartenenza in questa casa, invece adesso appunto è disponibile. Fatemi sapere nei commenti se siete un po' sorpresi. Quindi, veniamo ai motivi. Se conoscete il mio canale, e male se non lo conoscete, iscrivetevi al canale, mi raccomando, escono i video ogni martedì e venerdì alle 13.45. Appunto, se mi seguite sapete che Liam è stata la mia ultima bambola reborn non creata da me. Appunto, è stata l'ultima prima che iniziassi a crearle. Quindi, ha sempre avuto un posto importante nel mio cuore, nella mia casa, è sempre stato nel lettino, là dietro, a osservare gli altri bimbi che andavano, arrivavano, cercavano una nuova mamma e poi la trovavano. E voi mi chiederete, ma perché hai deciso di venderlo? Perché semplicemente ormai non sono più totalmente una collezionista, sono più un'artista, quindi una creatrice di queste bambole. Perciò, da un lato, certo mi faceva piacere avere Liam perché abbiamo vissuto un sacco di avventure insieme, che sono anche presenti qui sul canale, ve ne lascio magari qualcosa qui nelle schede se volete recuperare. Quindi c'era comunque un valore emotivo, però rimaneva il fatto che mi occupava spazio, ma non essendo più così tanto una collezionista, non riuscivo a dargli le attenzioni che secondo me meritava e merita, perché è una bambola davvero fatta bene, l'avete vista tante volte davvero un bimbo realistico, cioè è proprio bello, poi era costato tanto, e appunto il suo prezzo invece sarà nettamente inferiore rispetto a quello che l'avevo pagato appunto al tempo, ovviamente. Chiaramente non è una bambola perfetta, perché ha qualche anno, però è una bambola bella che io essendo un'artista ho ritoccato negli anni, quindi è ancora perfetta, fra l'altro i suoi capelli, ora che crea Bambola Reborn, so che costano tantissimo, proprio la marca di capelli che ha nella testa. Quindi è comunque una bambola molto bella, e secondo me merita, attenzioni merita, di essere una nuova famiglia, che apprezzi il suo valore e gli dia la giusta importanza, invece che rimanere qui a prendere polvere, poverino. Quindi appunto ho deciso che sarà in vendita per il momento appunto questa grandissima occasione di adottare nella vostra casa, nella vostra famiglia, il nostro Liam, che appunto è più famoso di me per quanti video ha partecipato praticamente. E quindi niente, anche la mascotte nel senso di foto, cioè la foto sia del mio Instagram che della mia mail, che del mio canale YouTube, che dei miei dati da visita, c'è Liam, anche nella sigla del canale c'è Liam, e rimarrà sempre Liam, perché sarà sempre la mia bambola preferita del cuore, tra quelle che ho avuto, quella con cui ho avuto più avventure, però appunto ho deciso, a malincuore, di metterlo in vendita. E adesso ve lo faccio vedere comunque, anche se lo conoscete già, però magari siete nuovi, ma dubito, perché se avete visto questo video, penso che sappiate chi è Liam. Ovviamente, essendo una bambola così speciale, voglio che vada nelle mani di persone che lo conoscono, cioè che hanno visto magari altri suoi video, e che sanno prendersene cura. Quindi per questo motivo darò la precedenza a voi, chi mi seguite qui su YouTube, e che quindi arrivate alla notizia di Liam in vendita tramite questo video, rispetto che ad altri siti, perché spesso metto le mie reborne in vendita anche su Vinted, dopo che ve l'ho annunciato, però in questo caso aspetterò un attimino per darvi la precedenza. Quindi mi raccomando, fatemi sapere, e non esitate a contattarmi. E adesso ve lo faccio vedere, però nient'altro da dire, devo dire che mi dispiace chiaramente, perché Liam è sempre il mio Liam, però sapevo a malincuore che prima o poi questo momento sarebbe arrivato. e quando non ero mai sentita pronta, non mi sentivo pronta ancora, però a un certo punto ho detto, è arrivato il momento. Quindi niente, fatemi sapere tutte le vostre opinioni nei commenti, adesso ve lo faccio ripetere un attimino, e nulla, ci salutiamo qua. Un bacio a tutti, e al prossimo video, vi raccomando, condividete questo video con più persone possibili, in modo da trovare una nuova famiglia, che voglia davvero bene a Liam. Il nostro Liam direi che non ha bisogno di presentazioni, però ve lo faccio rivedere, perché giustamente è il protagonista un po' di questo video. Ovviamente arriverà con un corredino molto ricco di vestitini, i vestitini più famosi che ha indossato in questi anni di video, appunto quelli che gli stanno meglio, i più carini, quindi tranquilli che non arriverà con poco. Vi faccio vedere anche i suoi cabelli, ovviamente li conoscete tutti, sono bellissimi, qualità altissima, anche gli occhi sono in vetro, sono azzurri, è davvero un bimbo adorabile. Eccolo qui frontale, e devo dire che è un bimbo, una reborn, davvero oggettivamente fatta bene, cioè guardate quanto è carino, è dettagliato, è super bello, quindi nulla, questo è giusto per rinfrescarvi un po' la memoria. Ecco qua il nostro piccolino, ovviamente prima di spedirlo lo sistemerò ancora, quindi con il colore darò un'aggiustatina a tutto, appena finirò questo video, quindi sarà proprio perfetto. E nulla, vi ricordo i miei contatti nel primissimo commento qui sotto in alto, qua sotto, nella sezione commenti. Direi che ci vediamo al prossimo video, escono il martedì e il venerdì ore 13.45, e un bacio a tutti, anche da Liam. e un bacio a tutti,